Gli strumenti che abbiamo a disposizione per capire il mondo è lo studio delle parole che usiamo per descriverlo con la loro storia e il loro uso quotidiano, come ci spiega il presidente dell'Accademia della Crusca. Uno dei compiti della letteratura è stato sempre ovviamente quello di raccontare. Si può raccontare la vita, l'esperienza personale, ma si possono raccontare anche dei mondi fantastici. Per esempio qui sul tavolo ci sono romanzi di Salgari che ha sempre raccontato l'esotico e l'avventura. Addirittura si può raccontare la fantascienza, cioè qualcosa che è immaginato e che forse non esiste. Quello che è curioso è che contare viene rafforzato da un ra e produce raccontare. E contare viene da computare latino. Quindi curiosamente contare i numeri e raccontare sono parole che hanno la stessa origine, la stessa etimologia. E come mai allora? Perché se c'è una cosa assolutamente diversa è contare i numeri e raccontare con la fantasia. E probabilmente il raccontare significa mettere in ordine una storia, perché se è disordinata non si capisce. E quindi questa parentela etimologica in qualche modo giustifica la struttura del racconto.